La Cazza Nappa, adesso basta fare i negri per piacere. Capisci, sono 60.000 bianche e 6 milioni di negri che vogliono cacciarle via. Meno male che il negro è ancora quasi sulle alberi, appena ha perso la coda, se no ci avrebbe già cacciato via. Io vi dico solo una cosa, ci sono 10 capi che avranno studiato a Oxford, tutte le altre sono delle scimmie, 6 milioni di scimmie. Guardi il Congo per esempio, dopo aver fatto la prima elementare si credono tutti i ministri.